Buongiorno a tutti e benvenuti a questa presentazione dedicata ad AutoCAD Map3D ed AutoCAD Raster Design. Entrambi questi prodotti sono disponibili dalla versione 2019 nell'abbonamento di AutoCAD. AutoCAD infatti offre sette strumenti specializzati che oltre a Map3D e Raster Design di cui parliamo oggi sono AutoCAD Architecture, AutoCAD MP, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical ed AutoCAD Plan3D, tutti disponibili all'interno dello stesso abbonamento. AutoCAD Map3D è lo strumento dedicato a fare da ponte tra il CAD ed il GIS e riceve un valido aiuto per questo scopo anche da Raster Design. Map3D è in sostanza una soluzione GIS consolidata. Da 20 anni cresce al servizio del CAD e negli ultimi tempi anche del BIM. Nato con la versione 2012, non la versione 2012, ma la versione 12 di AutoCAD, in questi 20 anni ha continuamente accresciuto le sue funzionalità sia nel campo dell'utilizzo dei dati GIS all'interno di un ambiente CAD, ma anche grazie all'aggiunta di strumenti più propriamente GIS. Quindi Map3D svolge un ruolo molto importante di ponte tra ambiente CAD e ambiente GIS, permettendo quindi l'integrazione nella stessa interfaccia, nello stesso progetto, nello stesso ambiente dei dati CAD e GIS e permette anche l'accesso direttamente ai dati GIS basati su file, su database e su servizi cloud. Un aspetto molto importante di AutoCAD Map3D sta appunto in questa possibilità di utilizzare dati di origine molto differente all'interno del stesso ambiente. Noi, per esempio, possiamo costruire un progetto, ovvero un DVG, un disegno, che si basa su delle particelle catastali che troviamo disponibili magari in formato GIS, quindi in formato shapefile, sulle quali andiamo a caricare un DVG che contiene le condotte dell'acqua ad esempio, sulle quali ancora andiamo a caricare degli attributi, delle informazioni di testo che stanno in un database, sul quale ancora possiamo andare a caricare delle analisi realizzate ad esempio come un strumento open come PostGIS e ancora possiamo sottoporre al tutto delle cartografie, delle ortofoto, dei dati raster e così via. Il tutto all'interno dello stesso ambiente, quindi si rompe la barriera del formato DVG, si entra pienamente nel campo GIS. Raster design in questo caso può dare una mano molto valida nella gestione dei dati raster. I dati raster nel campo GIS e cartografico sono ancora molto utilizzati, basta pensare al fatto che, non so, le vecchie mappe catastali come vediamo in questa immagine, ma anche le ortofoto, per non parlare dei modelli digitali d'elevazione, sono dei dati raster. Raster design permette di manipolarli, di gestirli, di modificarli, di georeferenziarli e al limite anche di convertire degli elementi raster in oggetti vettoriali DVG. Bene, quindi cominciamo a vedere in che modo funziona AutoCAD Map 3G, Map 3D, nel suo essere un ponte tra CAD e GIS. Cominciamo a visualizzare l'interfaccia con un video. L'interfaccia di AutoCAD Map 3D, come è facile intuire, è estremamente simile a quella di AutoCAD. Abbiamo il menu principale sul bottone A, in alto a sinistra abbiamo la barra multifunzione con le sue schede, con i suoi titoli e poi abbiamo in più rispetto ad AutoCAD questo che vedete a sinistra che si chiama Riquadro Attività ed è un po' il cuore di tutti i progetti. All'interno di AutoCAD Map 3D possiamo scegliere delle aree di lavoro. In questo momento abbiamo scelto l'area di lavoro disegno che equivale praticamente a quella di AutoCAD. Abbiamo scelto ora la Map Classic che addirittura torna indietro di alcuni anni e ripresenta l'interfaccia basata sui menu, come era una volta. Sicuramente l'area di lavoro che andremo a usare di più è l'area di lavoro pianificazione e analisi che è appunto l'area di lavoro più propriamente GIS. Andiamo ora a fare un esempio di uso di cartografie e di dati GIS attraverso un altro video. Noi cominciamo con il nostro disegno vuoto e andiamo a inserire al suo interno delle cartografie raster georeferenziate. In particolare si tratta delle carte tecniche di Regione Lombardia. Sono dei TIF sostanzialmente ma che contengono al loro interno, vedete, la posizione in cui vanno inseriti che è una posizione inquadrata all'interno di un sistema di coordinate. Cosa vuol dire questo? Prima di tutto la nostra cartografia raster viene posizionata correttamente in scala reale in metri. Quindi noi possiamo ad esempio andare a prendere delle misure, cioè conoscere esattamente le misure degli elementi che sono sul territorio. Un altro vantaggio sta nel fatto che quando vado a caricare altri fogli di cartografia raster visto che questi vengono tutti posizionati correttamente, non ho bisogno di fare nessuno sforzo per avere lo sfondo cartografico completo sul quale posso andare a progettare. Ho detto che questa cartografia è inquadrata in un sistema di coordinate. Andiamo a assegnarlo, cioè andiamo a scegliere i sistemi di coordinate italiani e andiamo a scegliere il sistema di questa cartografia che per l'esattezza è il Gasboaga Ovest, quello vecchio basato sul datum Roma 1940. Assegnare il sistema di coordinate significa far conoscere a Map3D la posizione nello spazio di questa cartografia. Posso così attivare un servizio cloud estremamente innovativo che stiamo vedendo in questo momento che è il servizio che va a richiamare le carte aerei, ovvero le ortofoto messe a disposizione da Bing. Bing è sostanzialmente il concorrente di Google Maps. Alle sue spalle c'è Microsoft, quindi c'è una grande azienda, che ha permesso di rendere disponibili le sue ortofoto all'interno dei software Autodesk, quindi all'interno di Map3D e Civil3D. Vedete, posso caricare le ortofoto di tutto il fuso Ovest di Gasboaga, l'Italia divisa in due fusi, est e ovest, e quindi posso avere immediatamente uno sfondo molto efficace rappresentato appunto dalle ortofoto oppure dalla carta stradale che stiamo per vedere tra pochi istanti, eccola, oppure da una carta mista, ibrida, che presenta sia l'ortofoto sia le principali indicazioni stradali. Ecco, vedete che in pochi istanti stiamo costruendo un progetto in cui in realtà per il momento di oggetti di VG quindi non abbiamo ancora inserito nulla. Bene, a questo punto andiamo a effettuare una importazione di dati GIS. Dati GIS, come vedete, in formato shapefile, stratta per l'esercizza, naturalmente Map può caricare moltissimi formati, come potete vedere, in questo caso appunto carichiamo questi shapefile, sono i dati di TomTom, quindi i dati dei navigatori, quindi strade, ferrovie e vestizioni. Vedete, ho scelto di caricare tre shapefile, in questa finestra io posso sostanzialmente scegliere il layer, dove voglio, ad esempio, le acque voglio che vadano su un layer che si chiama fiumi, le ferrovie, su un layer che si chiama ferrovie e quello che qua viene chiamato network va su un layer che si chiama strade. Posso quindi decidere il layer dove andranno i dati e soprattutto caricare quelle che Map3d chiama dati oggetto, ma che sono sostanzialmente gli attributi. Vedete, questi sono tutti i campi di attributo che sono presenti all'interno di shapefile, addirittura posso cambiare il loro nome. Bene, conviene sempre naturalmente caricare gli attributi per non perdere informazioni e quindi io andrò a caricare, quindi importare in formato dvg sia la geometria sia gli attributi. Infine, con il bottone che ho appena schiacciato, posso decidere di importare solo i dati che ricadono all'interno di una certa finestra, che poniamo che questi dati siano su base provinciale o regionale, io posso delimitare il dato che mi interessa. Bene, è avvenuta l'importazione, come vedete ho strade, i fiumi, le ferrovie che sono state importate, le vedete con colori diversi, ma soprattutto potete notare che una volta selezionata una strada posso andare a vedere tutti i suoi attributi, come ad esempio il suo nome, questo era Viale Cesare Battisti. Bene, vediamo ora in che modo Raster Design ci supporta, in particolare per quanto riguarda i dati Raster, cartografici Raster, nel compito di georeferenziare una cartografia. In questo caso andremo a georeferenziare un foglio catastale. Io ho preparato il mio disegno disegnando prima di tutto la griglia, vedete, con le coordinate corrette, che ho letto nel foglio catastale. Andiamo avanti un po' velocemente. Vado a caricare, ora, ecco qua, viene mostrato il comando che userò tra poco, cioè si chiama trasforma foglio di gomma e permette appunto la georeferenziazione dell'immagine Raster sulla base appunto di questa griglia che ho preparato in precedenza. Vado quindi a inserire l'immagine, inserirla semplicemente perché non è georeferenziata, quindi la inserisco indicando il punto di inserimento, la rotazione e la scala. Ecco, questo è, sto andando a scegliere il foglio Raster, eccolo qua, il foglio catastale, in questo foglio, ecco, naturalmente devo scegliere il formato, eccolo qua, è un JPEG e vado a inserirlo di fianco alla mia griglia. Specifico quindi il punto di inserimento, la rotazione. Scusate, la rotazione no, il punto di inserimento e la scala. Ecco, ho appoggiato quindi la mia immagine di fianco alla griglia. Ora vado a applicare il comando che appunto si occupa di fare una trasformazione a foglio di gomma, facendo in modo che gli incroci della griglia che vedo sul raster vadano a corrispondere agli incroci sulla griglia che ho disegnato nel disegno. L'operazione è abbastanza semplice perché una volta avviato il comando, ecco, questa è la finestra, aggiungo dei punti andando a indicare prima il punto sul raster e poi il punto sul vettoriale, sulla griglia. Vedete, per indicare il punto sul raster naturalmente posso zoomare fino a quando proprio non individuo l'esatto incrocio sul foglio raster, poi vado a snappare in sostanza sul punto esatto di incrocio della griglia. O, naturalmente, questa operazione può essere ripetuta per tutti gli incroci. All'inizio posso magari usare solo i quattro angoli del foglio catastale ed eventualmente provare, vedete, con quattro punti, qua viene indicata la posizione dei punti e viene, vedete, il errore è ancora a zero perché sto usando un algoritmo di georeferenziazione tipo triangolare che quindi permette di dividere in triangoli il foglio catastale e georeferenziarlo praticamente senza errori. Ma se voglio una georeferenziazione più precisa, quindi usare anche i punti che stanno all'interno della griglia, allora devo usare un diverso algoritmo che si chiama poligonale. Vedete, vado ad aggiungere molti più punti e quindi viene indicato un errore. Posso alzare il grado polinomiale dell'algoritmo in modo tale da diminuire l'errore e andare avanti così fin quando non ho sostanzialmente aggiunto tutti i punti che sono necessari. Quando sono soddisfatto chiedo al software di georeferenziare il raster. Ecco, adesso lo porto dietro perché è andato sopra la griglia naturalmente come ordine di visualizzazione. Ecco, vedete che sostanzialmente la georeferenziazione è stata fatta in modo abbastanza preciso oppure posso ulteriormente ripetere il comando di trasformazione a foglio di gomma per ottenere una migliore precisione. Una volta georeferenziata l'immagine della cartografia raster posso poi salvarla. Salvarla nel formato desiderato e con la georeferenziazione. Cioè sostanzialmente salvo un geotiff che mi permette poi di avere l'immagine georeferenziata senza dover più ripetere questo tipo di operazione. Vedete, scelgo di mantenere il collegamento al disegno e scelgo di salvare questa immagine come geotiff. Un formato simile alla cartografia della regione Lombardia che abbiamo visto prima e che quindi viene richiamata già georeferenzia. Bene, ecco, questi erano alcuni spunti perché naturalmente le funzionalità sono molto numerose per usare i dati GIS all'interno dell'ambiente CAD o preparare il dato CAD all'uso nell'ambiente GIS. Vediamo ora alcuni spunti sulle funzionalità propriamente GIS che sono contenute all'interno di AutoCAD Map 3D. Anche qui un video. In questo caso noi andiamo a, non a importare, ma a connetterci a delle shapefile. Questi per esistezza sono gli shapefile che vengono distribuiti da Istat. Vedete che le connessioni sono molto numerose. posso connettermi non solo a shapefile ma anche immagini raster, a geodatabase e così via. Mi connetto quindi alla cartella che contiene i dati Istat. Scelgo di caricare sia i comuni che le province, che le regioni. Vedete che viene riconosciuto anche il sistema di coordinate che in questo caso è UTM32 e D50. Ecco, sulla sinistra vedete i layer che sono stati caricati. Spengo provincia e regioni, vedo i comuni. Notate che sto lavorando con più di 8000 poligoni. Quindi non è un dato banale. Posso lavorare molto liberamente sulla vestizione di questi dati. Notate che il dato è rimasto in formato shapefile. Non è stato importato in DMG. Quindi posso assegnare colori, contorni, trasparenza. Ecco, vi sto facendo vedere come modificare la trasparenza del dato. Dopodiché posso visualizzare gli attributi. Quindi qua, ad esempio, per ogni comune vediamo c'è sostanzialmente la popolazione oltre al codice della regione, al codice della provincia. posso ricercare un comune in base al suo nome. Quindi, creare un filtro in base al nome, scrivo Monza, viene trovato Monza, ma anche Monzambano. Mi basta cliccare Monza per andare a zoomare sul poligono dei confini comunali di Monza. Bene, come vedete, ho un uso molto veloce e ho quindi la possibilità di, visto che ho segnato, anzi, il sistema dei coordinati è stato riconosciuto nello shapefile. Ho caricato un dato georeferenziale, anche in questo caso posso andare a caricare le mie ortofoto. Quindi posso posizionarmi in maniera corretta nel sistema di coordinate, che in questo caso è UTM, e visualizzare la carta aerea, la carta stradale o la carta ibrida, oppure spegnerla. Bene, su questi dati, che sono appunto shapefile, posso andare a effettuare delle analisi. Ad esempio, una prima analisi può essere quella basata sugli attributi, quindi un tematismo. L'attributo che vado ad analizzare è la popolazione. Scelgo di creare 32 regole che vadano dal colore bianco al colore blu. Mi crea poi lui tutte le sfumature necessarie e con un semplice ok sono in grado di vedere ogni comune colorato in base alla sua popolazione. Creando appunto 32 classi ho la possibilità di vedere la densità, in sostanza, della popolazione. Poi, in realtà, la densità andrebbe calcolata dividendo la popolazione per la superficie, cosa che posso fare, naturalmente, ma già così sono in grado di vedere, non so, l'area metropolitana milanese, vedete quella di Firenze, la via Emilia era abbastanza evidente. Sono in grado, insomma, di analizzare il territorio. Elimino adesso il tematismo perché voglio presentare un'altra funzionalità che è quella dell'etichettatura. In qualsiasi momento posso usare gli attributi, anche in questo caso la popolazione, per etichettare ogni poligono dei comuni. Quindi poi posso decidere l'altezza del testo, eccetera, eccetera, o addirittura creare delle espressioni che mi permettono di vedere sì la popolazione, ma anche di aggiungere, non so, il nome del comune piuttosto che altre informazioni. Ecco, vedete, questa è l'espressione che presenta la popolazione e ci aggiungo un testo che si chiama abitanti. L'etichetta, che possa essere sempre un semplice numero, sarà il numero seguito dal testo fisso abitanti. Bene. Per concludere questa panoramica, che è proprio veramente un assaggio rispetto alle numerose funzionalità di Map3D, volevo mostrarvi con un video una cosa molto, che penso possa essere molto utile, ovvero la possibilità di accedere a un servizio GIS in cloud che distribuisce la cartografia catastale. Il servizio si chiama WMS, sta a voler dire Web Map Service, è uno standard internazionale e finalmente, qualche tempo fa, l'agenzia delle entrate ha deciso di distribuire i dati catastali attraverso questo tipo di servizi. Bene, come possiamo fare? Allora, prima di tutto aperto il nostro disegno nuovo dobbiamo andare ad assegnare un sistema di coordinate che preferiamo in questo caso andiamo ad assegnare UTM32 WGS84 uno dei più moderni, dei più recenti e dei più utilizzati soprattutto. Naturalmente io ho usato un disegno nuovo ma se avessi avuto una cartografia, un dato già inquadrato in un sistema di coordinate sarebbe andato bene ugualmente. per posizionarmi vado a usare la stessa procedura che ho utilizzato prima ovvero vado a caricare i confini comunali che vengono distribuiti gratuitamente sono dei dati open da parte di Istat sempre attraverso l'assumento di connessione GIS vado a prendere questi dati notare che ed50 sa significare che sono UTM32 ecco lo vediamo ed50 ma MAP non ha problemi nel convertire la cartografia dei comuni da UTM32 ed50 a UTM32 VGS84 bene appunto utilizzando questo tipo di dato vado poi a cercare il mio comune preferito in base al nome questo è importante perché la cartografia è visibile solo una scala intorno al 2000 1 a 2000 1 a 3000 1 a 4000 quindi bisogna posizionarsi abbastanza precisamente zoomare fino a raggiungere questa scala tra l'altro vi faccio notare che MAP3D in basso di fianco al codice UTM8432N che è quello del sistema di coordinate vi mostra la scala corrente del disegno mi sono posizionato appunto vado nel centro della città vedete sono proprio nel centro dove c'è il comune vedete che sono al 2000 quindi va bene poi posso anche chiudere ecco se voglio posso definire precisamente la scala la porto esattamente 1 a 2000 dopodiché vado a chiedere attraverso servizio WMS vedete prima ho usato una connessione SHP adesso uso una connessione WMS voglio andare a caricare i dati appunto del catassi italiano quello che è necessario conoscere è il nome del server lo vedete qua lo trovate facilmente nella pagina che appunto l'agenzia delle entrate ha dedicato a questo tipo di servizio scelgo la versione 1.1.1 mi viene chiesto un nome una password ma è un servizio pubblico quindi le posso lasciare assolutamente vuote e poi vado a scegliere quali sono i layer che desidero caricare ad esempio le particelle i fabbricati le vestizioni quindi la graffa il numero della particella quello vedete è il sistema di coordinate con cui viene distribuito il dato ma verrà poi convertito in UTM 32 VGA 74 infine scelgo aggiungi a carta ecco avviene il caricamento via internet dal server della agenzia delle entrate il risultato è la sovrapposizione del catasto con la mia cartografia vedete abbiamo le particelle dei fabbricati il numero che è visibile però solo alla scala precedente ecco vi sto facendo vedere che allontanandosi poi il dato scompare perché l'agenzia dell'entrata ha deciso che sarà visibile solo entro una certa scala esiste poi una procedura per rendere trasparenti questi dati vedete sto caricando un dvg che ho già salvato con i dati resi trasparenti semi trasparenti al 50% in modo tale da rendere ancora più significativa la visualizzazione bene naturalmente questi che avete visto erano degli spunti degli assaggi su come Map3D è in grado di funzionare è frutto di molti anni di evoluzione quindi è ricchissimo di funzionalità voglio solo sottolineare il fatto che sono disponibili funzionalità appunto di analisi come abbiamo visto per i tematismi ma di analisi anche attraverso buffer cioè la creazione di fasce di rispetto ad esempio io posso individuare tutti i comuni che ricadono in una fascia di rispetto a partire da un lago come o da un fiume o da un'autostrada piuttosto che e poi estrarre attraverso un'analisi di overlay estrarre poi la superficie che ricade all'interno del buffer oppure individuare tutte le aree non so industriali che ricadono sotto un vincolo ambientale quindi posso andare sostanzialmente a eseguire delle analisi di intersezioni tra più coperture anche direttamente in formato GIS quindi in shape file o da geodatabase e così via in modo tale da poter ottenere dei risultati tipicamente e propriamente GIS molto importante ho la possibilità di andare a editare a modificare il dato GIS nel suo formato originale quindi salvarlo in formato originale quindi per esempio se io carico uno shape file magari sovrapposto a un dvg e sovrapposto a un ortofoto sono in grado di modificare direttamente lo shape file e di salvarlo come shape mantenendo lo shape file senza bisogno di importarlo in dvg e modificarlo e poi riesportarlo un altro aspetto molto importante che ci porta vicini al mondo BIM al mondo delle infrastrutture è l'uso da parte di Map3D e la gestione dei modelli digitali di elevazione normalmente noti come DEM ovvero con la sigla inglese che è Digital Elevation Model tridimensionali i modelli digitali di elevazione sono di fatto dei raster che sono una griglia dove ogni pixel contiene una quota al posto di un colore Map3D è in grado di utilizzarli di visualizzarli in tre dimensioni è in grado di estrarre dai modelli digitali di elevazione le curve di livello quindi di effettuare una conversione da raster a vettoriale perché i curve di livello sono vettoriali per poi appunto avere a disposizione per tutti gli usi che riteniamo utili farne con questa veloce panoramica io penso di avervi dato alcuni spunti per capire i grandi vantaggi che AutoCAD Map3D è in grado di portare prima di tutto l'accesso l'accesso ai dati GIS in ambiente CAD quindi AutoCAD in sostanza è in grado di accedere a tutto un mondo di dati cartografici e GIS l'applicazione ai dati di analisi di tipo GIS pensiamo a tutte le applicazioni urbanistiche di pianificazione del territorio la preparazione dei dati GIS per l'uso in ambiente CAD o addirittura in ambiente BIM come base per la progettazione quindi la preparazione della base GIS per la progettazione per il disegno CAD ma anche per la progettazione BIM soprattutto nel campo delle infrastrutture e infine l'esportazione dei dati CAD in formato GIS per averli a disposizione ancora la modifica direttamente in ambiente CAD del dato GIS nel suo formato originale bene intanto vi ringrazio per aver seguito questa presentazione e vi auguro buon lavoro con AutoCAD Map 3D e Raster Design per l'esporto e buon lavoro ha